Ciao a tutti, oggi facciamo l'analisi di Piaggio. Dunque, tralasciando il marchio Piaggio, che sicuramente noi italiani conosciamo tutti quanti, l'azienda in sé, per chi non la conoscesse, è un'azienda che produce veicoli e due ruote a motore, sostanzialmente. Ora, andando a inserire i dati, in 4 anni possiamo notare come i fatturati siano cresciuti del 10%, in 4 anni, utile netto sul fatturato in crescita, ma non costante e non alto, anzi piuttosto basso, utile netto in crescita del 24%, EBIT, quindi gli utili antiimposti cresciuti del 50%, aliquota scesa del 27%, quindi non tanto buono, profitto lordo, che ti ricordo essere i fatturati meno il costo del venduto, in crescita del 9%, margine di profitto lordo costante, debito corrente cresciuto del 6,60% in 4 anni, debito a lungo termine sceso dell'8,5% circa, andando a inserire il numero di azioni in circolazione, possiamo notare come abbia un rapporto debito utile che spazia da un 20% a un 32%. Per la precisione significa che per ogni euro di utile netto crea 24 euro di debito, stessa cosa per il 2014, per ogni euro di utile ne crea 32% di debito, nel 2015 per ogni euro di utile crea 28 euro di debito, nel 2016 per ogni euro di utile crea 20 euro di debito. Comunque è un numero che in 4 anni ha perso un 14%, quindi vedremo i prossimi anni. Spese generale amministrative di vendita costanti, ammortamenti cresciuti del 34% circa. Ora, per quanto riguarda il prezzo, io ho inserito i dati qui dall'altra parte del foglio, più precisamente dove c'è scritto calcoli, e se andiamo a cliccare possiamo notare come in questa pagina basta inserire solo questi 7 dati, che io per adesso ho messo a caso solo per far venire questi numeri verdi e rossi, in modo da farti vedere che cambiano colore, in modo che anche tu possa riuscire a calcolare da solo il vero valore di un'azione. Per quelli che hanno già scaricato questo file Excel, sanno già che basta inserire questi 7 dati, che io spiego esattamente dove andarli a cercare, dopodiché il file Excel elaborerà dei dati, questa tabellina qui non devi assolutamente toccarla, e facendo degli incroci con tutto il file Excel, quindi compreso anche il foglio azienda, che c'è scritto qui per la precisione, dicevo, una volta che avrà fatto tutti i suoi incroci, andrà a cambiare i colori, che se sono verdi significa che vanno bene, se sono rossi significa che non va bene. Ovviamente qui ci saranno tutti i parametri che devono rispettare, e qui tutte le voci che devono essere rispettate. Comunque già a colpo d'occhio potrai capire che se sono tutti rossi, significa che l'azienda non va per niente bene, se sono tutti verdi, ovviamente può essere acquistata senza problemi. Ora, io ho fatto un'analisi del prezzo prima di fare questo video, e ho constatato che questa azienda, secondo me, per i miei parametri settati negli anni, matematicamente e statisticamente, il prezzo appunto è troppo alto, ora come ora. Sinceramente io la vedrei bene, anziché a 2,20€, 2,30€, come sta battendo in questo momento, la vedrei bene a 1€. Di conseguenza però io non l'acquisterei a 1€, l'acquisterei a molto meno, sinceramente anche intorno a 50-60 centesimi, per rispettare i miei parametri, per avere i miei margini di sicurezza. E se stai pensando che dovrebbe scendere troppo, ti rispondo che per me non li vale, e non bisogna neanche fare un'analisi così approfondita del prezzo, ti invito solo a guardare l'utile netto sul fatturato, che gira intorno all'1%, a volte neanche. Questo in termini numerici significa che questa società ha un giro d'affari di 1.342.450.000 euro, ma poi, alla fin fine, tolto tutto a utili per neanche 20 milioni. Da un punto di vista numerico, questo è spaventoso. Nel 2014 è andata ancora peggio, ha avuto un giro d'affari di 1.295.290.000, e ha avuto degli utili netti di 11 milioni, neanche 12. Rapportandola al debito che produce in rapporto agli utili, come ti dicevo prima, ogni volta che crea 1 euro di utile, crea 24 euro di debito. Quindi, ti ripeto, secondo me, ora come ora è sovrastimata. E ti ripeto di nuovo, io l'acquisterei se scendessi intorno ai 50 centesimi. Spero che questa analisi ti sia piaciuta. Se vuoi, questo file Excel te lo lascio in descrizione. Se vuoi che venga analizzata un'azienda in particolare, scrivimelo nei commenti. Ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!